Illustrato dalla provincia di Teramo, dai comuni di Alba Adriatica, Tortoreto, Pineto e Martinsicuro, le motivazioni e i termini del ricorso presentato al Presidente della Repubblica per dire no alle tribelle per le coltivazioni di idrocarburi a largo della costa teramana. Sotto accuse il documento del Ministro della Transizione Ecologica, Cingolani, che come noto ha dato il via libera alla concessione di nuovi pozzi per l'estrazione di gas e petrolio, di cui quattro situati nell'Adriatico. La provincia è intervenuta immediatamente appena abbiamo avuto questa indicazione da parte del comune di Martinsicuro che ringraziamo anche per averci coinvolto in questa iniziativa. Siamo qui oggi insieme ai comuni di Martinsicuro, appunto, Alba Adriatica, Tortoreto e Pineto soprattutto per difendere le regioni del territorio. E naturalmente la provincia non può che essere vicino al territorio, vicino a questi comuni che in questo momento lamentano una grande preoccupazione, quella delle tribelle, che noi riteniamo una scelta sbaviata, per cui insieme faremo questa battaglia. Una battaglia sicuramente non ideologica, siamo qui per difendere le regioni del territorio, le regioni dell'ambiente e del turismo. Alle contestazioni sollevate dai sindaci e provincia si unisce anche le considerazioni del docente costituzionalista Enzo Di Salvatore. Non si è fatto in tempo a proporre il ricorso al TAR perché sono scaduto di 60 giorni, c'è invece questo al capo dello Stato, un ricorso straordinario, se ne occupa in realtà il Consiglio di Stato. I tempi sono un po' più lunghi, abbiamo posto però anche una questione di legittimità costituzionale di questa legge al giudice. Adesso vediamo se accoglierà il nostro dubbio. Più tutta una serie di questioni perché non è detto che questo in realtà, diciamo questo pozzo verrà realizzato fuori dalle 12 miglia, anzi non è fatto certo perché la stessa Eni che dichiara che si trova dentro le 12 miglia e questo non è possibile perché la legge lo vieta. È vero che è una concessione che sta un po' di qua un po' di là perché le 12 miglia passano esattamente in mezzo ma quello che sta fuori è la piattaforma, non il pozzo. Quindi anche guardando gli atti c'è molta ambiguità e tutto questo peraltro risulta anche poco opportuno in quanto al 30 settembre era data di scadenza per l'approvazione di questo piano, di questo PITESAI rispetto al quale però oggi stesso ci sono diverse novità perché anche qui c'è una sorta di furbata da parte dell'esecutivo perché anziché proporre un piano all'attenzione dei comuni e delle regioni che mettesse ordine e stabilisse dove si e dove no, in realtà non è un piano. Si sono limitati a formulare nuovi criteri e quindi le aree sono esattamente le stesse di prima e quindi vuol dire che Martinsicuro, l'Abruzzo e il mare Adriatico non saranno poste fuori dall'esercizio di questa attività ma staranno dentro con criteri discrezionali come oggi ricorda una testata nazionale che secondo me consentiranno alla pubblica amministrazione cioè al Ministero di avere le mani libere per decidere se è conveniente economicamente sì o no dare nuovi permessi e nuove concessioni.